Ciao a tutti, allora spero finalmente di riuscire a fare un video ASMR, diciamo che ultimamente ho avuto una serie di difficoltà nel farlo perché purtroppo non ero mai da solo in casa e per quanto non do proprio a fare silenzio, non è che lo si può regare ad una sedia e quindi non era mai possibile. Ora sono solo, quindi mi scuso già per eventuali rumori, quali vicini che urlano, ambulanze che passano, ascensore che si sente insomma abitando in un palazzo e non si può, scusate, non si può avere il silenzio totale e perenne, quindi spero comunque di riuscire a rilassarvi. Allora in realtà è partita un po' non male perché se ne frega però non benissimo perché per questo video avevo pensato di sedermi tranquillo e fare appunto un po' di whispering e una serie di rumori quali tapping, quali crickling e quando sono andato a prendere l'asta però per il microfono mi sono reso conto che non so per quale cazzo di motivo si è rotta, quindi il cosetti, il cazzillo da girare per appassare e alzare l'asta ha pensato bene di non rispondere più ad alcun comando, scusate, continuo a picchiare gli occhiali e quindi insomma rimane a questa altezza che è l'altezza alla fine che io uso per cantare perché è perfettamente la mia altezza però per un ASMR non è molto comodo, comunque fatto sta che adesso sono in piedi e basta farò questo video da in piedi e anche chissene come state? Moltissimi di voi mi hanno chiesto come mai io non facessi più un video ASMR tra cui Glamrash, ciao ti saluto che è una ASMR artist, come si dice una youtuber che fa video ASMR, se mai vi lascerò il link del suo canale nell'info box, a me piace tantissimo e ve l'ho spiegato perché qual era la situazione, quindi adesso lo faccio, mi fa piacere sapere che a molti di voi piacciono i miei ASMR per me sono una droga, nel senso che io tutti i giorni me li ascolto, tutte le sere mi metto lì, me li ascolto, mi ascolto tutti scrivo proprio ASMR e metto il filtro oggi e mi escono tutti i video caricati nel giorno stesso di ASMR quindi quelli nuovi perché con i vecchi bisogna averli visti tutti già, tutti dunque vi voglio parlare di ciò che mi è successo nelle ultime settimane, sono cose abbastanza strane o meglio strane, sono cose alla quale non sono abituato ecco praticamente è un periodo in cui andando in giro io incontro, sto incontrando un casino di persone che mi guardano su youtube e quindi mi fermano e mi dicono un pezzo di danno quando mi dicono un pezzo di danno mi si gela il sangue perché io poi divento un rosso paonato e mi vergogno molto in quelle situazioni, scusateli ma mi vergogno molto in quelle situazioni e quindi insomma rimango un attimo così ma ve ne racconto alcune che sono davvero assurde ma avrei pensato praticamente due sabati fa sono andato alla cresima di mia cucina e poi ovviamente ha fatto il rinfresco e siamo andati quindi a fare una pericina fuori praticamente dopo la cerimonia, dopo la messa, cresci male, non so come si dica, abbiate pazienza dopo la messa si sono avvicinate due amiche di mia cucina mia cucina ha 12 anni direi, 13 quest'anno le deve fare quindi si ha 12 anni e vabbè insomma si sono avvicinate queste due amiche e una di queste due amiche segue me su youtube e infatti ha detto a mia cucina ma cazzo ma tu il pezzo di danno di tua cucina non avevi detto nulla, scusate se cosa l'ho portata il vicino, non so se l'avete sentita il pezzo di danno di tua cucina non mi dici nulla probabilmente perché invece mia cucina non mi caga di pezza e meno male insomma è meglio che i miei parenti soprattutto quelli più piccoli non mi guardino su youtube e ne sappiano almeno possibile insomma e quindi anche lì sono rimasto così neanche a dire che poi per tutta la sera praticamente vedevo lei che ogni tanto mi davo degli sguardi poi chiaramente si è voluta fare un selfie e vabbè insomma fino a qui niente di così strano se non che l'altra volta scusate mi è salito un riflusso di qualcosa se non che l'altra volta sono andato da mio zio in negozio allora mio zio ha un negozio di ottica dovevo aiutarlo non nel lavoro di ottica ma per quel che riguarda il funzionamento di una cosa ad attaccare al computer insomma lui non ci capisce moltissimo quindi sono andato ad aiutarlo perché comunque si tratta di musica karaoke cosa così anche lui si era preso un mixer anche lui piace cantare insomma quindi sono andato a installare un po' il tutto e mentre ero lì entra una madre con due gemelli maschio e femmina e a ritirare un paio di occhiali per lui direi o per lei no mi sembra per lui e niente escono tranquilli dopo neanche 30 secondi la madre rientra mi guarda e mi ci va ma tu sei l'amico della loffa quindi neanche pazzo ti danni ma tu sei l'amico della loffa e sono rimasto così e anche mio zio quindi c'è rimasto così e gli ho detto si sono io vabbè insomma ho fatto stacche mi ha fatto una foto con i due figli mi ha detto anche lei che insomma che ci segue e che gli facciamo passare del tempo in serenità a ridere e a intrattenere e mi ha fatto molto molto piacere questo però ora dico è assurdo cioè io quel giorno vado da mio zio e proprio quel giorno loro che mi seguono su youtube vengono a ritirare cioè è una cosa un po' strana ci deve essere qualche allineamento strano di qualche pianeta non lo so io non me ne capisco un cazzo però qualcuno ha detto che può essere che può essere questo io continuo a piccare gli occhiali qui come cazzo faccio vabbè e quindi insomma anche lì poi appunto ci sono fatte le foto il figlio mi ha chiesto anche un autografo che è atroce perché uno scrivo malissimo scrivo il stampatello è malissimo due io di fatto non so firmare quando qualcuno mi chiede di firmare io faccio sempre uno scarabocchio che mi esce sempre uguale ma che non vuol dire nulla già assolutamente nulla uno scarabocchio penso lì non c'è scritto Daniele Lucicero non vuol dire un cazzo però non so firmare ma perché è riconducibile a tutto il fatto che io scrivo male perché non so scrivere perché sono diselesco perché mi sbaglio cazzo e manzo sprizzo e sprazzo insomma cosa così e quello poi cosa ancora più acclatante l'altra volta sono andato in in palestra ero in palestra e praticamente in quella palestra c'era tutta la mia famiglia quindi mia zia mia cugina praticamente e arriva quindi mia zia che mi viene incontro ci salutiamo e mi dice guarda io a casa mia ho un disegno per te ma che dico che ha un disegno per me che cazzo è e lei mi ha detto sì perché c'è un bambino un ragazzino che ti segue su youtube che noi conosciamo che ha scoperto che tu sei nostro nipote e quindi ti ha fatto un disegno praticamente a natale io postai su facebook una foto con tutti i miei parenti quindi con me e tutti i miei parenti mi ha detto mia zia che questo bambino ha visto quella foto ha riconosciuto i miei zii e allora ha telefonato i miei zii in casa chiedendo se mi conoscevano i miei zii hanno risposto sì è nostro nipote e da lì gli ha detto oh che bello io lo seguo su youtube posso fare un disegno vi prego fatelo ricapitare e quindi vi faccio ora vedere il disegno che mi è stato ricapitato pochi giorni fa perché per la fine i miei zii anche si portano sempre dietro il disegno allora il disegno è questo non si vede un cazzo ma ora mi è vicino alla cam ci siamo io e la stefani disegnati e ci sono una serie di scritte c'è scritto viva il trash c'è scritto cosa c'è scritto wasted il film c'è scritto le meme della love più merda la nana shani più stella uguale love c'è il bicchiere della cap song c'è il microfono è arrivato il pezzone tap smash lente a contatto ci sono dei cazzi disegnati finti c'era scritta fucking challenge insomma ci sono le c'è una mertina disegnata e dietro c'è scritto siete i miei idoli vi adoro ora vi aduovo ora mi sembra che lui si chiami Edoardo se non sbaglio ora mi avvicino alla videocamera e vi faccio vedere questo disegno che è fighissimo lasciamo perdere non si vede un cazzo non so come farvelo vedere sinceramente non lo so forse e no perché più mi avvicino più c'è la luce non si vede un cazzo ne farò una foto se mai ve la metterò qui da qualche parte comunque insomma è successo un po' questo ultimamente vabbè vado in giro gente che mi dice sei il pezzone l'altra volta appunto ero alla fiumara mi ha fermato qualcuno cioè strano ancora prima sempre alla fiumara stavo entrando da media world e qualcuno mi guarda mi dice penso in tani cioè anche uno che lavora lì oltretutto quindi non c'entrerò mai più da media world ovviamente e quindi insomma sono situazioni un po' strane che mi lasciano un po' perplesso ma che mi fa assolutamente piacere conoscere qualcuno e però mi imbaraccio sempre un po' cioè non so che cosa dire cosa fare che cosa gli altri si aspettano che io faccia e quindi adesso è un po' in crisi quelle situazioni insomma allora comincerai con il fare un po' di crickling che poi non ho mai ben capito come cazzo si dica spesso crickling penso proprio di sì vabbè scusate ho preso una serie di oggetti con il quale farlo fra cui la cosa che io preferisco di più ovvero il crickling che io preferisco di più e che ho già fatto più volte ma già secondo me è da priviti davvero ho qui una confezione di caramelle di caramelle svidere all'herbe senza zucchero in realtà mi sono uscito un po' tedesco con le svidere io non sto sentendo nulla di quello che sto registrando dell'audio parlo perché essendo troppo lontano dal computer non ho modo di mettermi gli auricolari dovrei star così non mi sembra molto il caso e quindi insomma spero non sia troppo forte il rumore spero non sia troppo fastidioso spero che i miei chiari che continuano a picchiare del microfono non provocano un suono troppo fastidioso insomma intanto me ne mangio non mi sembra perché io dal computer vedo il il livello del suono sia a destra che a sinistra ovviamente sono uguale perché non faccio il pinura il pinurale come cazzo dici sta sparando un casino non tanto quando parlo ma quando appunto faccio questi rumori quindi spero non sia troppo fastidioso ma quando appunto faccio non sia troppo dicono non sia troppo ma quando appunto al Alla prossima Non so quanto sia stata in realtà una buona idea quella delle caramelle perché ogni volta che ho una caramella la salivazione mi aumenta talmente tanto che devo fare una sorta di risucchio e incogliere la saliva. Che belle cose che sto dicendo. Però su un ASMR secondo me è un po' tanto fastidioso. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. 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 Non so, non so, non so. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso il suono che più adoro in assoluto. Le salchettine. Uno, due. 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 Uno, due.